Parte il campionato di promozione. Arriva a Vitulazio il Sommarionale Trieste, squadra di Somma Vesuviana. Tocca alle squadre mostrare il gioco. Campo è in perfette condizioni ed il Klim è quello ottimo per aspicarsi una grande partita di calcio. Il Sommarionale scende in campo con Piccolo, Allocca, Granato, Giustiniani, Palmiero, Castiello, Sanzone, Allocca, Pasquale, Andreotti, Abete, Regina. A disposizione Albano, Russo, Secondulfo, Ardolino, Farella, Raffone, Odore. Allenatore Ciro Iodice. I padroni di casa di mister Gagliardi schienano subito tra i pali il neoacquisto Pompeo a seguire Nacca, Vanore, Pellino, Patricielli, Di Maio, Della Valle, Di Lillo, Scarpato, Insigne, Capobianco. In panchina Di Caprio, Della Gatta, Graziano, Duonolo, Cuccari, Faenza, Di Monaco. Abita all'incontro il signor Francesco Esposito di Torre Annunziata, assistenti Lamarra Bruno di Napoli e Oscurato Gennaro di Castellammare di Stabbia. Parte col botto il Somma che alla prima occasione passa in vantaggio. È il decimo minuto, Allocca fa partire un crattiro dai 30 metri ingannando Pompeo, un gol bellissimo che gela l'intero impianto vitulatino, compreso l'incredulo portiere. Al dodicesimo Insigne affonda in aria e mette una palla al centro. Scarpato non arriva ma sbuca le spalle capobianco ma il suo sinistro viene respinto dall'ottimo piccolo. Due minuti più tardi stavolta Insigne ad andare al tiro ma la conclusione è debole. L'attaccante si ripete al sedicesimo ma la palla finisce a lato. Al ventunesimo arriva il meritato parigio del Vitula. Gli ospiti battono male un calcio d'angolo. Insigne ne approfitta e lancia Scarpato che si invola verso la porta avversaria. Arriva in aria tutto solo davanti al portiere che lo trafigge. Esplode il comunale per il momentaneo pareggio e Gagliardi della panchina chiede ai suoi di continuare a spingere. Al ventitresimo bella azione sulla destra di Della Valle che crossa al centro per capobianco ma la sua conclusione sfiora di poco il palo. Quanto meno te l'aspetti arriva il nuovo vantaggio ospite. Al venticinquesimo stavolta ad imbucare la difesa vitulatina è Sansone che entra in aria e con una mezza cucchiata mette la palla alle spalle di Pompeo. A questo punto il mister Iodice capisce che oggi può veramente portare l'intera posta in palla ai danni della blasonata squadra del duo Zappello Cocco. Ventottesimo Scarpato riceve palla al limite da Insigne ma il suo tiro finisce alto. Al trentatresimo si ripete lo stesso attaccante dopo aver ricevuto palla da un'ottima Insigne su una battuta da calcio d'angolo ma il suo tiro finisce poco alto sopra la traversa. Al trentasesimo arriva il primo e non ultimo gol annullato per fuorigioco ai padroni di casa. Insigne entra in aria e calcia. Il portiere si allunga e respinge ne approfitta della valle che realizza a porta vuoto ma l'assistente annulla per fuorigioco. Finisce così il primo tempo con i vantaggi ospite per due reti a uno. La ripresa si inizia con gli stessi undici del primo tempo. Il Vitula si butta subito in avanti alla ricerca del disperato pareggio. Al terzo minuto è Di Maio che ci prova dalla distanza ma la sua conclusione è alta. Il summa non ha segni di reazione. Il solito Insigne mette una palla al centro, capo a bianco tira e la palla sfiora di poco il palo. Lo stesso attaccante ci prova due minuti dopo ma Piccolo fa buona guardia. Minuto dopo è della valle ad avere la palla ghiotta per il pareggio ma il giocatore sbaglia clamurosamente. Al nono si vede finalmente il summa con una conclusione da bete ma Pompeo risponde presente. Al quindicesimo punizione per il Vitula. Alla battuta si presenta Scarpato ma piccolo effetto una grande parata togliendo la palla destinata nel set. Tre minuti dopo ci prova Insigne ma il suo destro è a lato. Al ventesimo succede dell'incredibile. Della valle riceve palla da Di Lillo. L'attaccante si presenta tu per tu con il portiere e realizza ma l'arbitro annulla per una segnalazione di fuorigioco. Nel replay possiamo notare che all'occa tiene in gioco l'attaccante Vitulatino. Il tutto a solo un metro dall'assistente. Protesta dalla panchina ma a pagare il difensore Patricelli che già munito in precedenza per gioco scorretto si becca il secondo cartellino per protesta. Mister Gagliardi non vuole minimamente pensare ad una sconfitta al suo esordio. Così mette nella mischia il giovane Ander Faenza al posto di uno stremato e nervoso della valle. La mossa lo ripaga perché nell'ultimo dei sei minuti di recupero dati lo stesso Ander butta dentro la palla del definitivo 2-2. C'è rammarico da parte dei padroni di casa per le tante occasioni non sfruttate ma alla fine possiamo dire un ottimo punto guadagnato. Dalla parte degli ospiti Mister Giodice non può che essere soddisfatto dei suoi uomini. Consapevoli di giocare una gara a viso aperto contro una delle favorite alla vittoria finale del campionato. Certo che se si faceva più attenzione veramente poteva fare il colpaccio a Vito Lazio. Cosa impensabile prima della gara. Ora spazio alle interviste. Da Peppe Allocca duro del primo gol del campionato che in sedizione hai provato. Eurogol. Eurogol. Sono contento. Peccato per la partita perché è terminata sul 2-2. Potevamo magari sperare in un punto in più. Però va bene così. È la prima del campionato. Ci sono tante altre partite. Allora siamo con Mister Gaiardi. 2-2. Sono due punti persi o un punto guadagnato? Ma per come è andata la partita penso che alla fine sia un punto guadagnato. insomma perché come abbiamo visto poi nel secondo tempo in dieci uomini non era più facile recuperare la partita. E per come si era messa la partita? Diciamo che secondo me forse è un punto guadagnato. Visto che poi abbiamo realizzato il gol nella fase di recupero. Certamente è un punto guadagnato. Si poteva fare meglio però purtroppo il calcio è così. Siamo col Presidente Cocco. Che partita è stata? Partita tosta, dura da parte loro nel primo tempo soprattutto. Abbiamo sottovalutato un pochettino gli avversari secondo il mio punto di vista nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo scesi in campo un pochettino più carichi. Abbiamo avuto qualche decisione arbitrale che ci ha annientato perché comunque ci ha buttato giù. Un fuorigioco inesistente. Il ragazzo è partito da dietro della valle. Gollo valido. Ed è uno. Dopo lo può vedere anche lei nella trasmissione, nel replay. E quindi i ragazzi hanno sottolineato gli avversari e ci siamo trovati un attimino in svantaggio. Doppia munizione di Patricelli in dieci. Ragazzi capita che qualche dono sta ancora fuori forma quindi abbiamo dovuto fare un cambio. Per fortuna Faenza al secondo tempo ci ha dato una gran mano resistente. Ragazzo pieno di energia e con il gran cross di Vincenzo Capobianco abbiamo portato il pareggio della partita. Pessimo. Pessimo su tutti i punti di vista. Giustamente ne terremo conto con le aule di competenza perché un arbitraggio del genere non si può accettare. Per di più alla prima giornata di campionato. Siamo stati penalizzati al 100%. Avremmo dovuto vincere la partita. Gol annullato regolarmente al primo tempo, secondo tempo un altro gol annullato, un rigore non dato, ammunizione delle espulsioni a valanga. Se questo è arbitraggio credo che è finito il calcio. Onestamente se si continuano questi passi. Ora sono andato nel mondo del calcio ma per opportuno giusto altri 20 giorni mi dimetterò e andrò via dal calcio perché non si può andare avanti così. Prendano le decisioni e giustamente le aule competenti facciano il loro dovere con questi abiti giovani alle prime armi.